Buongiorno a tutti, in questo nuovo video voglio raccontarvi e spiegarvi un trade che ho fatto questa settimana e soprattutto su cui sono ancora dentro, è quello che vedete al lato della mia webcam e riguarda il petrolio, il petrolio VTI. Allora andiamo a vedere che cosa ho fatto da vicino su questo mercato la settimana scorsa, partiamo da il settimanale. Allora eravamo sul petrolio in una situazione di price action molto molto chiara, ovvero il grafico ci mostrava nel quasi ultimo anno, in realtà un po' di più dell'ultimo anno, un petrolio che era rimasto in un trading range che prendeva area 82, area 68, 67 con un'area intermedia in zona 73, 70, 74. Nell'ultima diciamo parte del, diciamo da quest'estate, l'ultima parte del grafico, quindi da questi minimi che possiamo prendere qui da fine maggio in cui se guardate, andiamo a vedere qui, guardate un po', ci sono tutte pin bar, quindi barre con un lungo spike, le classiche pinocchio bar che io spiego nei miei corsi da sempre, che hanno fatto da base su un punto importante che era zona 67 e su cui poi è partito un movimento rialzista, dove c'è stata una barra di indecisione con un ribasso sotto i minimi nelle due settimane successive. La settimana scorsa però, vedete, si è creata questa tail bar, quindi non è propriamente una pin bar seppur si potrebbe assimilare anche una pin bar, è una tail bar, pin bar se avesse comunque un, magari un corpo un po' più piccolo, però in realtà si potrebbe anche assimilare una pin bar che ritorna su. Che cosa succede? Succede che questa settimana, quindi negli ultimi, negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, cancello qui le freccine, vediamo, facciamo così, ecco, sono andato ovviamente a osservare quello che era successo su quattro ore e se noi guardiamo questa situazione, già ci stava fornendo delle dinamiche di un certo tipo. Perché? Perché il mercato ha fatto questo massimo e minimo swing e poi ha portato il movimento a essere continuato fino alla rottura del minimo, questo qui, area diciamo 78 e 90. Su quest'area 78 e 90 però era molto importante capire cosa faceva il prezzo e qui si è formata questa pin bar che sfalsa di pochissimo il minimo precedente e poi rompe il giorno successivo, creando la cosiddetta falsa rottura. Quindi minimi, 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 crea questo pavimento, qui viene rotto completamente, crea una pin bar, falsa rottura, rialzo. Io sono entrato nella giornata di martedì, quindi in questo momento che io sto facendo il video è venerdì, sono le ore 12 e 30 e sono a mercato da questo giorno. Guardiamo, quindi io avevo il weekly, diciamo che mi diceva una certa cosa, e il daily che stava quindi ritornando al rialzo con questa falsa rottura fatta in tre barre, seppur questa diciamo che è similabile a una pin bar. Nella giornata di lunedì si è creato questa barra un po' di esaurimento di questo movimento che poteva portare al ribasso. Invece guardate cosa è successo, ed era molto da stare attenti su questo livello. Praticamente lui ha rotto il minimo, e guardiamo un po' nella giornata di martedì 29, quando ha rotto quel minimo, prendo un grafico a 4 ore, ma posso prendere anche un grafico a 6 ore, non cambierebbe nulla, io sono due time frame che utilizzo, guardiamo un 6 ore e guardiamo un 4 ore. Venerdì era successo questo, quindi giovedì bam, già questo, poi venerdì bam e ritorna, e poi nella giornata del martedì 29 si è creato addirittura questo. Quindi io avevo notato la rottura qui, questa qui, è la rottura di quel minimo fatto il giorno precedente, quindi questo qui. Quindi rompe il minimo, crea diciamo la conferma di queste due dinamiche, quindi falsa rottura, recupero, swing, 1, 2, 3, pin bar nuovamente, e nuovamente swing. Quindi quando lui poi ha rotto il minimo, alla quasi la fine delle 4 ore, e su questo è un 6 ore, posso andare tranquillamente a vedere 4 ore, eccolo qua. Alla fine di queste 4 ore, quindi tra le 13 e le 17 di martedì scorso, quando il mercato stava recuperando, io sono entrato long qui, con uno stop neanche tanto grande. Ho preso uno stop monetario che è comunque piccolino per i miei soliti stop, si tratta di pochissimo in questo caso, ma questo è un trade ad alto rendimento e a basso rischio di base. Quindi mi sono messo sotto i minimi settimanali, con lo stop, solo 255 euro di stop, solo 255 euro di stop, con la possibilità però che il mercato in effetti, adesso vedremo, possa seguire e correre in modo abbastanza imponente. Quindi guardiamo bene, lui ha fatto questo sul daily, quindi la falsa rottura, io sono andato a vedere il 4 ore, il 6 ore, il 4 ore principalmente, ha fatto rottura ed è rientrato creando un'altra pin bar, che poi ha portato su. Nella giornata successiva addirittura si è creata un'altra pin bar qui, che poteva essere utilizzata da incremento, sul 6 ore guardate, sono due inside, dove il mercato qui si poteva comprare nuovamente incrementando a 81,93, e adesso il mercato sta messo così, praticamente sta in movimento ampio. In realtà qui io mi aspetterei, adesso già su queste zone, mi aspetterei una fase di ritracciamento, però al momento l'idea è quella di mantenere il trade a mercato. Quello che si formerebbe a fine settimana sarebbe una conferma della dinamica di ritracciamento, una chiusura per la prima volta dopo quasi un anno al di sopra dell'area 82, in piena volatilità, con forza, formando un FTV power, che mi potrebbe portare poi la settimana prossima addirittura a incrementare questo trade con, vedete, un daily che magari nei prossimi giorni, non so se oggi, ma comunque nei prossimi giorni, mi potrebbe dare una fase nuovamente di ritracciamento e nuovamente di possibile entry per andare più su. Più su dove? Beh, al momento io ho messo un target così, che potrei anche modificare, leggermente più basso, leggermente più alto, però più o meno è questo, il livello, diciamo, dell'area 92, 93, dove ci sono formati, diciamo, nel ribasso, come possiamo notare, nel ribasso, nel movimento di tendenza short, si erano formati questi massimi. Quindi se notiamo, non c'è nulla, diciamo, che fermi, che possa fermare in maniera evidente, ovviamente, non che, ovviamente, i ritracciamenti me li aspetterò adesso sul daily, ma che fermi in maniera evidente il prezzo del petrolio, non c'è nulla. Quindi il fatto anche che abbia rotto questa zona, può portare veramente a un movimento importante verso l'alto nelle prossime settimane. Quindi al momento volevo mostrarvi questo big ticket come, andando a cercare di trovare gli spunti dalla price action, con pochi mercati, voi sapete che io utilizzo principalmente una decina, ecco la qua la mia watch list principale, una 5-6 coppie di valute forex, oro, petrolio e qualche indice, e da lì trovare sempre di settimana in settimana gli spunti. Gli stop ci sono, ma quando si lavora bene, si riesce a magari chiudere con stop non troppo enormi e cercare di, invece, guadagnare quando il mercato fa guadagnare. Non tutte le posizioni sono come questa, nel senso che questa è una posizione che, a mio avviso, potrei appunto tenere per provare a fare un fuoricampo, diciamo, un big ticket, come mi piace chiamarle a me, è un movimento più importante, ovviamente dovrò seguirla, non voglio adesso ridare al mercato quello che sto guadagnando, assolutamente, quindi probabilmente già nella giornata di lunedì potrei iniziare a modificare lo stop, andare a free risk e addirittura anche a potenziale profit, appena inizierà a farmi uno swing sul daily, perché adesso l'ultimo swing è questo, quindi si sta allontanando l'ultimo swing e quindi diciamo che potrebbe essere buono incassare in questo caso, ma visto il tipo di trade che potrebbe veramente generare ulteriore movimento rialzista, adesso qua se guardiamo questo massimo, 84-39 è stato rotto di poco, 84-43 potrebbe qui ritracciare, ma anche se ritraccia un po' non mi interessa, anzi, potrebbe essere l'idea proprio per fare una continuazione. Quindi rimango assolutamente in fase, diciamo, offensiva sul mercato, in fase d'attacco, con la possibilità di incrementare nuovamente questo trade, inizialmente, ripeto, ho preso un rischio che su questo conto, che tra l'altro è un'operazione che ho condiviso anche sul platinum, questo è un trade che ho fatto anche su un altro conto che ho, e in questo caso direi che ha senso, insomma, mantenerlo e anche, vedete, il rischio che solitamente prendo su questo conto che condivido con il platinum, con il servizio platinum, è a metà del solito rischio, apposta per provare a incrementare, con anche un rischio più grande. Però ormai non ci sarà neanche più bisogno, perché molto probabilmente questa operazione si inizierà a mettere a free risk, quindi a break even, nelle prossime giornate. Quindi adesso staremo un po' a vedere cosa succede, volevo mostrarvela poi magari nelle trading room che facciamo qui sul canale, vi vedrò, vi dirò un po' com'è andata, però la cosa che mi piaceva mostrarvi a voi era, attraverso l'uso ed esclusivamente l'uso di quello che sono le dinamiche di prezzo, io non guardo il petrolio da un punto di vista fondamentale, zero, come faccio per il forex, per gli indici, guardo esclusivamente da un punto di vista grafico su alti time frame, weekly, daily, 4 ore, 6 ore nel caso, e c'erano delle determinate dinamiche di prezzo che potevano accompagnare un movimento rialzista. Quindi adesso vedremo un po' come si muoverà, però questa è sicuramente una posizione che mi piaceva con voi condividere e farvi capire quanto può essere interessante, semplice e anche remunerativo, gestendo bene il rischio, fare un trading con la price action, facendo pochi trade al mese, ma fatti come si deve. Noi diciamo sempre nella forex qualità sopra la quantità, quindi non conta quanti trade si fanno, ma importa che tipo di trade si fanno e come vengono gestiti i trade. Bene, io a questo punto vi ringrazio, noi ovviamente ci vediamo qui sul canale, vi chiedo se vi è piaciuto questo video di lasciare un mi piace, di lasciare un commento, così magari ci sentiamo anche qui, e basta, ci vediamo al prossimo video, e vi auguro ovviamente, come al solito, un buon Trading Simple. Ciao a tutti.